Insieme al presidente Giorgio Lacava qui nel suo quartier generale, possiamo dire così, di Perugia, allora, partiamo dalla partita, poi diremo una notizia importante sulla questione società e sui rapporti, soprattutto, ma partiamo dalla gara di Cuneo che ha lasciato un po' di amaro in bocca, tra l'altro l'Arezzo perde sempre con le squadre di società che hanno dei problemi, che è successo con il Propriacenza che è successo con il Cuneo. Sì, diciamo che adesso non per trovare scuse per la squadra, però veramente se il comunale non è il Bernabeu, il comunale di Arezzo, il campo sicuramente del Cuneo è un campo di patate, ma patate è un campo duro di patate, e quindi io vedendo la partita dal computer, dall'Eleven, perché avevo, come tutti sapevano, il compleanno della mia figlia e quindi no dovevo, volevo stare con mia figlia alla festa e quindi non sono potuto andare a Cuneo, però veramente c'è un rimbalzi folli e sembrava come se questi giocatori, forse non sembrava, ma sicuramente conoscessero i giocatori del Cuneo tutti i rimbalzi, perché sapevano dove la palla andava più veloce, più lenta e quindi è una squadra proprio nata, io ho parlato con Nello Cutolo ieri, proprio sembra nata per giocare in quel campo e quindi penso che, infatti mi sembra ci hanno vinto solo due squadre su quel campo e quindi è andata così. La squadra era un po' stanca e adesso speriamo che ricominciamo alla grande, perché adesso abbiamo il Trittico, Novara, Carrarese e Piacenza e là sapremo benissimo tante cose a parere mio. Ecco, un avizio che ha la possibilità di poter arrivare in qualunque posizione, perché lo ha dimostrato, soprattutto con le squadre anche più fuori. Sì, proprio perché può arrivare in qualsiasi situazione, però è sempre stata lassù, quindi adesso bisogna stare molto concentrati, perché arrivare sesti, settimi o terzi o secondi può succedere. Quindi ai giocatori massima concentrazione, bisogna starli vicino, perché bisogna sempre ricordarsi questa squadra che cosa ha fatto sino ad oggi e quindi un plauso completo, però adesso anche loro devono stringere i denti. Una mini impresa totale come l'anno scorso, per esempio, bisogna fare. Anche gli arrivi di gennaio sembrano stati positivi, cioè sono stati un rinforzo alcuni. Sì, diciamo, purtroppo Buttic veniva a una stazza fisica importante, quindi come tutti i giocatori che non hanno il ritmo partita, perché a Terni ha giocato veramente poco, un po' soffre i carichi di lavoro del mister, però speriamo che si riprenda, perché potrebbe essere veramente un aiuto importante per le ultime partite, più che altro per i play-off. Rolando sono molto soddisfatto, mi sembra un ottimo giocatore e speriamo che poi vada tutto come deve andare. Quest'estate, quando ci eravamo sentiti di ritorno dal canto, tu eri molto entusiasta, ci avevi detto abbiamo preso veramente un grandissimo allenatore e i fatti hanno confermato. Sono contento che te lo ricordi, perché come dico sempre abbiamo dovuto, a volte ci chiedevano tanti giornalisti, anche te è normale per il lavoro che fai, ma l'allenatore è l'allenatore, noi dovevamo aspettare, 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 ma abbiamo fatto bene a parere mio ad aspettare, perché questo è un fenomeno sia per come far giocare la squadra, ma proprio per il gruppo che crea. Ve l'avevano detto a Torino che lui è uno che proprio crea il gruppo molto forte dei suoi giocatori. E hai fatto giocare la squadra? In modo divino, io ricordo delle partite in Tella, Carrarese, la stessa Siena, Pisa, partite giocate veramente da una serie B alta come livello e non da Lega Pro, vediamo la Lega Pro, io poche squadre ho visto che mi hanno divertito come la Rezzo, anzi forse solo la Rezzo. Quanto cambierebbe nei piani societari un'eventuale promozione in serie B? Beh, cambierebbe parecchio, perché tu sai che già dalla serie B tu puoi pianificare bene, non sei costretto come la Lega Pro in bagno di sangue a finanziare in continuazione la squadra. Adesso vediamo, noi avevamo sempre questo programma triennale, ma vediamo se potessi accelerare, io sarei il più contento di tutti. Quando ripensi all'anno scorso, eravamo nel momento in cui l'impresa totale franasceva, aveva mosso già i primi passi, ti sei mai pentito di quel passo? Assolutamente no, io sono un entusiasta, sono un, come dico sempre, drogato del calcio, poi in pochi mesi ho fatto cose che sinceramente non pensavo che si potevano fare, sono molto soddisfatto, poi come in tutte le cose della vita, non tutte le cose vanno bene, ci sono dei momenti di crisi, però bisogna essere forti per cercare di superarli. Hai trovato comunque il mando Pieroni il principale ispiratore di questo? Ho detto centomila volte, te la ridico ancora, che Pieroni quando seppe che c'era possibilità ad Arezzo dell'esercizio provvisorio, praticamente stava in pianta stabile nel mio ufficio di Roma, ma veniva sempre a dirmi adesso è il momento, adesso è il momento e poi con quel famoso bonifico da centomila euro di metà marzo, verso il 10 marzo, adesso non mi ricordo quando, iniziamo questa avventura insieme a lui. Quanti soldi hai investito nella Grezzo dall'inizio? Troppi. L'anno scorso. Le cifre non si dicono, ma veramente una cifra importante, i risultati mi danno ragione, però è chiaro, l'investimento è importante, bisogna sempre, come ho detto io, fare le cose con i piedi per terra, ma fino adesso, se Dio vuole, va tutto bene. Che città hai trovato ad Arezzo, cioè come ambiente, come... Io, ottimo, ho tanti amici, la cosa bella del calcio è questo, che al di fuori di tutto, io anche ero andato prima in altre realtà calcistiche, sono stato, diciamo, dentro società, non sono stato dentro società, però l'importante è a parere mio che se tu sei uno diretto, sincero, vedono che tu vai là per il calcio, perché io non ho ambizioni di fare lavori ad Arezzo e tutti lo sanno, la gente poi crea veramente rapporti veri, questo è successo anche in altre città di serie C, anche toscane, che io volevo prendere, mi sento con delle persone, anche se ormai non c'è più nessun interesse oggettivo, però questa è la cosa più bella che per me c'è per il calcio. Ti senti, cioè, la Seda Vivi come una parentesi della tua vita o proprio ti piacerebbe farlo per tanti anni in quesilette della Ghezzi? Sì, beh, tutti quando fanno qualcosa lo vorrebbero fare per sempre, poi lo sappiamo meglio di tutti, la vita è talmente strana, però per me uno deve farlo sempre come se è l'ultimo giorno, quindi al massima determinazione, massimo entusiasmo e quindi andare avanti così. Ovviamente il calcio è una parte forse anche piccola, fuga delle due attività, vogliamo raccontare anche quello che fanno? Beh, è piccola, non tanto, perché dico la verità, mi sta prendendo, oltre che dal punto di vista economico, ma come dico, è il tempo, cioè, io ho fortuna che certi lavori a Roma, come ho detto altri tuoi colleghi, li avevo finiti, perché sinceramente il tempo che porta via il calcio è tanto, ma questo perché viene fatto con entusiasmo, io mi ricordo che anche quando ero presidente di una seconda categoria perdevo tanto tempo, tra parlare con l'allenatore, il medico, il vicepresidente, i dirigenti, quindi se tu lo fai con passione ti prende tanto tempo, come dovrebbe essere fatto il calcio, se no meglio non farlo. Che tipo di presidente sei? Dai qualche consiglio, c'è uno scambio anche tecnico con dal canto, con i giocatori? Grandissimo esperto di calcio, è una battuta chiaramente, però per tutte le partite che vedo, che ho visto, qualcosina, qualcosa dentro sarà rimasto, però è una cosa questa proprio che dici te, che non ho mai fatto né in seconda categoria né in Lega Pro, cioè l'allenatore è assolutamente lui, il responsabile, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, però le scelte le fa assolutamente sempre lui, mai condizionato nessuno. In questo calcio, cioè questo è un campionato che alla fine non si sa, può essere anche una fortuna visto il caos che alla fine torna a vantaggio dell'Arezzo, può essere un'ingiustizia perché l'Arezzo ha fatto le cose in regola e viene trattato alla pari a volte di chi le cose in regola non le ha fatte, è un campionato falcidiato, ma ecco tu che hai fatto tutto in regola ti senti un po' tradito dal sistema calcio? Beh, tradito come penso a tanti altri presidenti, perché adesso non deve passare neanche il messaggio che tutti sono, che fanno le fiduzioni finte o fanno cose strane, ci sono veramente tantissimi presidenti che fanno come me le cose per bene e adesso sembra che c'è una stretta vera nella Lega Pro specialmente, quindi speriamo che da st'altro anno c'è tutte le cose, sono talmente semplici le cose da fare che bastano quei due o tre input e poi chi è serio si iscrive e chi non è serio purtroppo o non ce la fa non si iscrive. I tifosi, Presidente, in queste settimane però sono anche un po' preoccupati da queste tensioni che sono emerse, queste frizioni societarie, questo dissidio che è diventato fatto mediatico con il vicepresidente Massimo Anselmi, si era parlato di un CDA, che succede, che succederà? Allora io ti dico, oggi siamo lunedì 4 marzo mi sembra, ti dico che nelle società purtroppo quando uno fa le società le fa chiaramente, specialmente se poi parliamo di una società del calcio, ovvero di gente che sa che va incontro a bei finanziamenti che deve fare, a tante diciamo rotture anche se lo fa per la passione del calcio e della squadra, però ti dico che la cosa che deve premere a tutti i soci è il bene dell'Arezzo in questo caso, perché non stiamo parlando di una società che vende pane, mozzarella, gioielli, questa è una società che è sempre un SRL, ma che è una cosa tipica, cioè ha un tesoro che è enorme, cioè il tesoro enorme è la squadra della città di Arezzo in questo caso, quindi io penso che bisogna superare in primis anch'io Massimo, intanto abbiamo avuto chiaramente delle frizioni nate da… è normale che nella vita uno vede una cosa bianca e uno la vede rossa, ci può stare, però in questo momento noi dobbiamo, proprio per non rovinare il tutto di eccezionale che abbiamo fatto, io parlo di società normale, ma devo ritornare al discorso società straordinaria, perché quello che abbiamo fatto in meno di un anno è una cosa di cui anche se io sono un super ottimista non pensavo che sarebbe andata così, quindi dobbiamo superare le nostre posizioni e cercare di sicuramente fino al 30 giugno continuare a cavalcare questo sogno che è un sogno per me, fino ad un anno fa assurdo, adesso è abbastanza realizzabile, in ogni caso abbiamo posto delle basi molto importanti e quindi sia io che Massimo dobbiamo essere bravi per cercare di riunire un po' le cose e andare avanti. Anche perché aveva colpito all'inizio questa grande armonia che si che spiegava, tutti che avevamo stati… E te la confermo assolutamente, poi purtroppo come ti ho detto la società di calcio è una società che non è una società normale, è una cosa, ci sono visioni differenti, nascono delle tensioni anche su gruppi piccoli e quindi diciamo… poi anche per me potrebbe anche aver… sei stato anche un po' condizionato proprio da questi grandissimi risultati, forse anche quelli incosciamente hanno messo tensione, perché se tu pensavi che eri primo a decine giornate alla fine del campionato, sinceramente anche il tifoso più ottimista, più ottimista e Arezzo ti diceva, ma di che parliamo? Quindi anche questo a parere mio, anche essere forse non abituati a stare là, perché si pensava di un campionato normale, una metà classifica, forse aspirando a uno degli ultimi posti dei play-off, adesso sei qua te la devi lottare fino alla morte, speriamo che vada tutto bene sia in campo che in società. Romano Piegoni nella conferenza stampa, l'ultima che ha fatto ha detto attenzione a non far passare l'entusiasmo a Giorgio Lacava, perché se gli passa l'entusiasmo qui la situazione finisce male, c'è un rischio che passi l'entusiasmo? Allora il calcio come ho detto è molto morale, molto entusiasmo e molte tante altre cose, fra cui anche il lato economico che è la cosa più importante. Nel calcio tutti passano, perché è impossibile, io non ricordo Presidente, sono rimasti Presidente tutta la vita, però come dico sempre l'importante è che fino all'ultimo giorno, dal primo giorno che sei arrivato all'ultimo giorno che fai il Presidente, tu devi farlo in modo onesto, diretto come faccio io e poi nella vita si sa che un po' tutte le cose finiscono, però l'importante è che fino all'ultimo minuto che tu sei Presidente di una società di calcio, dai il massimo di quello che tu puoi dare, quella è la cosa più importante. Diciamo che il dissidio è stato per discrepanze anche sul calcio mercato, perché così lui ha fatto l'intente. Il dissidio come ti ho detto nasce dal fatto anche che parliamo proprio di calcio e quindi nel calcio uno è sempre sotto riflettore, quindi questo può anche un po' pesare, però ripeto non è che non voglio parlare del passato, dobbiamo guardare avanti, adesso noi abbiamo tre partite che decideranno molto le sorti di questo campionato, ovvero Novara, Carrarese e Piacenza, quindi dobbiamo assolutamente concentrarci su queste e su poi, ahimè anche da un punto di vista economico, sulla scadenza molto importante del 16 marzo dove un'altra volta i soci dovranno versare sulle casse della società Arezzo parecchi soldini perché è una data che raduna parecchie scadenze che la Lega ha fatto. E comunque sia, al di là di come finirà, Giorgio Lagava farà la sua parte. Quello come al solito lo sapete bene, quindi andiamo avanti così perché ripeto sarebbe proprio da stupidi rovinare un po' tutto quello, no di buono, di straordinario che abbiamo fatto a partire dal 6 maggio, perché mi sembra che la nostra società nasce il 6 maggio del 2018, proprio ha preso le redini dell'SS Arezzo dopo la grande impresa di Carrara del 5 maggio. Ecco, Piegoni sempre in conferenza Sampa ha spiegato anche perché la gestione è diventata un pochino più pesante, non è tanto il discorso del mercato quanto dei mancati introiti, è così? Sì, mancati introiti che però ci possono stare su una neonata società che era nata, noi siamo partiti, il problema che ho detto anche varie volte è che noi siamo partiti in ritardo ma non per colpa nostra perché come ti ricordo questa società ha preso l'affiliazione il 29 giugno del 2018, il 29 giugno del 2018 gran parte delle altre società, non ti dico che avevano già tutti i sponsor, ma ne avevano gran parte, noi ci siamo dovuti muovere tutti in ritardo sicuramente e quindi tutto questo ritardo ha fatto sì che tante situazioni non le hai potute programmare bene, però ripeto, quello è il passato, adesso è il nostro presente più importante di tutto perché ripeto, proprio nei confronti oltre che dei tifosi ma proprio di questa squadra che veramente è stata incomiabile sempre, noi dobbiamo cercare di andare avanti perché dobbiamo aiutarli fino alla fine perché questi sono stati ragazzi col mister e tutto lo staff tecnico eccezionale. Si muove qualcosa anche sul fronte di possibili soci o pubblicità? Beh quello dei soci sappiamo che anche Ermanno si stava un po' muovendo con degli aretini che forse sono interessati, però è chiaro queste sono situazioni sempre abbastanza difficili perché io ripeto, non è facile entrare nel calcio, lo dico contro i miei interessi perché forse per qualcuno è più facile fare uno sponsor che entrare con quote societarie perché poi là il mondo un po' ti cambia, nel senso devi stare sempre sul pezzo come dico, quindi devi avere tanta passione per entrare nel calcio. Il rapporto invece con l'orgoglio amagato che si è riunito anche nei giorni scorsi, c'è stata anche una nota tempo fa in cui invitavano ad abbassare i toni a entrambi. No no, ho parlato proprio in questi ultimi giorni con orgoglio amagato perché ci stiamo un po' sempre confrontando per questa situazione societaria che penso che spero anzi che si risolverà a breve, però il discorso è questo, io penso che sia orgoglio Amaranto, che Massimo Anselmi, che Giorgio Lacava, al di fuori che ognuno poi alle sue visioni vogliano il bene Arezzo e quindi questa è la cosa più importante. A livello di settore giovanile che era un altro dei temi ovviamente che è il futuro, si dice sempre. Il settore giovanile abbiamo, mi dice Ermanno, due o tre buoni anche già giocatori che stanno già andando molto molto bene e già sono stati anche visti da squadre chiaramente di categorie superiori. Anche quello è stato l'anno zero. Io penso che il settore giovanile dopo tante problematiche che non nascono nell'Arezzo dell'anno scorso, ma nascono in quelle società che stanno per fallire, ovvero di gente che si avvicinano per far tutto ma non per far calcio, le solite marchette come ho detto un po' forte in televisione, ma lo confermo, quindi anche quello è l'anno zero. Quindi non puoi pensare che va tutto perfetto, noi stiamo facendo dei sacrifici enormi, ci sono le trasferte in Sardegna, delle squadre giovanili, veramente come ti ho detto la Lega però in bagno di sangue e quindi penso che anche quelli che sono fuori dovrebbero essere un po' tolleranti nei confronti di una società che ha speso tanto, è ripartita con entusiasmo, poi chiaro non sarà la società migliore del mondo perché nessuno è migliore. Concludiamo allora con un messaggio ai tifosi, un messaggio alla città. Il messaggio ai tifosi è che mancano poche partite in casa, io torno ai messaggi inizio anno proprio perché c'è un tanto entusiasmo, venite allo stadio perché questa squadra specialmente in questo momento ha tanto bisogno dei tifosi, non parlo di quelli eccezionali della Curva Sud che ci seguono sempre da tutte le parti, però parlo anche degli altri tifosi di altri settori. La squadra ha molto bisogno dei tifosi aretini per cercare di arrivare a quel sogno che sarebbe una cosa eccezionale, ma al di fuori del sogno il nostro obiettivo deve essere andare più in alto possibile in classifica perché più in alto vai, più meno turni fai e quindi questo a maggio-giugno con la stanchezza di un campionato ormai alle spalle potrebbe essere decisivo.